Hi guys, io sono Michael e siamo su Cat Mario, un gioco molto famoso, cinese, giapponese, quello che è. Questo gioco parla più o meno, ma è Super Mario, più con le trappole, capite? Comunque, abbiamo ragione del traguardo di 26 iscritti, quindi questo video è quello per i 26 iscritti. Ok, iniziamo subito, allora farò questa serie, siamo piccola perché io sono un genio qui, questa gioca, ho visto un sacco di tappo della famiglia, da quelli due sul server, per cui, allora, quella che mi riesco un secondo, ragazzi, ok, allora, scusatela, e allora qui, ok, 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 qui c'è questo, qui c'è il gradino che cade, benissimo, qui c'è questo che non so niente, dio, ok, lì c'è la nuvola antipatica che è, oh dio, e qui c'è questo, ok, poi c'è questo, ragazzi, 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 ragazzi bandiera di nuovo dio mio non me la si rispettano mai qui siamo bloccati ma cosa accadete raga avevo perso una vita in testo praticamente per finire il video no vabbè a fine il primo livello avevo perso le vite non ho calcolato tutto raga ok siamo in video già dio no no ma che cavolo no raga meno vita meno uno vita meno uno raga 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 calmissimi come dice fabio jane qui è tutto un casino no raga aspettate raga aspettate quindi vabbè Ah, vai! No! Che cazzo? Cosa? Ragazzi, ho finito il livello! Ma che cazzo? Raga, vabbè, ce l'avete detto prima di voi! Io avevo finito quel carboso di livello! Ok Tutto calcolato, vai! Raga Vai! No! No, 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 no! Ma non può essere! Come si finisce? Come si finisce, raga? Raga, mi fa paura Gatmario, mi fa paura! No! Allora... No, no, no! Ok! Raga! Ok! 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 Tutto un cavolo! No! Io faccio un video a episodio! Un episodio a video! Toglio! E' tua... Ok! Trovo là! Raga! E io qui non lo capisco. E qui? Ah! Non capisco niente. Raga, che devo fare? Mi devo buttare. No, non credo. Muoio. E mezz'ora dopo! Vabbè, raga, io provo a buttarmi, ma non so. Scusate. Ora voi mi ripagate, vero? Cat Mario. Io... No, io devo vedere il mio video di FabiJ. Ma perché? Raga, perché? Raga, non è... Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì tentativi 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 e tentativi e altri dodici tentativi sette tentativi poi qui ma voiii state scherzando no 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 ma perché Ma Michael Continuo Raga io continuo Allora si salta poi si fa così Poi si fa così Poi si fa così Poi si fa così Raga dai Poi si fa così Poi si fa così Poi si fa così Aspetta perché è una nuvola Allora raga io qui non l'ho capito Sono andato pure oltre la bandiera Che devo fare? Scegli No Sto sbagliato Raga no 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 non è così Perché anche se vado oltre qui la gara Questo non importa Anche se vado qui E questo cade Io devo Lì c'è un buco E se cado nel buco ho provato Muoio Per qui E poi non ci posso andare avanti Perché non Avanti C'è un muro E voi cosa volete ancora qui Raga mi distrucco Raga io provo a farmi beccare dalla bandiera No Che devo fare No Raga raga Io io Raga mi metto la bassa musica che c'è Raga raga Io Non voglio così Non voglio così Sì Vanno qua Raga vai 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 No Io prima ho saltato qui Raga Vieni 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 Forse sono infine Sono infine Devo farlo Devo farlo Devo farlo Sono infine Sono infine Raga stavo giocando mio fratello che mi ha rotto Mi ha buttato fuori Mi ha buttato fuori Naturalmente Adesso io Io vi faccio Vi elimino i pannelli voltaci Raga Guardate i pannelli voltaci Te Raga ok Sono tentative Tentative che cerco No 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 Ah sì Tentative Ok Raga ok No Raga Aspettate un secondo Alleluia Finalmente ho capito Scusate Ho visto una cosa E Ho dovuto vedere ragazzi Non lo capivo Allora Questa è la solita Ehm Sì Tiè Tiè No Madonna 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 Nero 20 Nero 21 Il peggio di fari i j Si può essere così Broni come dice lui Broni Cattini Scemi Vaffan Bagna No Madonna Io salto qui Salto qui E mi faccio una pippetta Ok Ok Ma che 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 Mi sono Non poteva essere Che che ci faccio Ehm Madonna Ma come fa Cioè Raga E' un buco Di 10 Metri Ma Ma Perciò che Insegna Niente Mi bacio il microfono Raga Si 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 vai Così Vai così Vai così Ah Proprio me lo sono scordato Che qui c'era Cosa Cosa da buttarsi Allora Raga Meno 26 È la volta giusta Me lo sento Me lo sento Me lo sento No No È fottuto Ma che cazzo Go go A meno 27 Raga A meno 27 A meno 30 Proprio dico Delle cose Che Vaffanculo Te Raga 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 Ok Raga Meglio di Se in Bolsi Te Te Ho fattuto Che mi devo acquistare il gioco completo L'è meno 27 E poi Raga Lì usciva il Madonna 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 Ma posso essere così bene Non è No Oddio Raga Non posso essere così Aspetta Allora Se lo Non cadono Minca Lo vedo nel buco Pensavo Pensavo non Ah Madonna Insomma Che cavolo Come faccio Essere così Madonna Madonna Ma che Ma che Cotto Di Volla Ok Vai Vai Ok raga Qui ci doveva essere un trappolone Qui e qui Ok Raga Ma che Ecca Se voi mi vedete Adesso Se qualche giorno metto la webcam Voi scoprirete che io Faccio mosse che non vi piaceranno Tipo Mi Non è che non vi piaceranno Raga Ok raga Qui ci sarà Sicuramente Ok NACA G-g-g-g-g C'è Avevo visto qualche soluzione Si l'ho detto Ok Raga Avevo visto delle soluzione No 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 Raga Michael è un coglione Ditelo Te Te Madonna 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 Ma come posso essere così incelentato Così Mi do una pallonata Infatti Oddio Raga Aia C'è la stronzo Dai moriamo Ma va Madonna Madonna Mamma mia Te No 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 Ma io mi chiedo A livello finale Come favo Mi fanno male gli occhi Te 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 Madonna Siamo a meno 50 Meno 49 Meno 44 Raga Dovevo fare sì Un livello Un 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 video a livello Però Madonna Però non Deve finisco Finiocca Tommatico Ci Ci Volevo fare fuori I video Ecco Cosa Mi 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 prima non ci credevo mai madonna madonna non è possibile non è possibile ma no non è possibile te te non mi piace ma che cazzo raga sono un ferocio un ferocio di cane raga no 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 madonna non è possibile raga raga finirò a questo livello a costo della morte madonna raga non è possibile non è possibile salto 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 siamo venuti più al 54 adesso ok raga madonna 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 s 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 Non è possibile, non è possibile, cioè sono otto mille volte, mille volte Oh, vaga, oh Ma no, ma no, mi ha fatto Non me l'aspettavo, raga, no Fa un cubo Te No, no Ora sono 50 minuti di cazzo Mario Adesso lo sai che ti faccio, vile cane bastardo Vile di merda, vile di merda, vile di merda, vile di merda Raga, no, 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 no Porca puttana Quando finirò il cazzo Mario Mi sentirò un dio No, ma papapò Ma fin- Però mi sento uno sch- Uno sch- Raga, raga Appena arrivo a 70 io finisco Bello chiaro Abbiamo ancora 5 morti Raga, raga Oh, raga Sì Te Ok No Così Ok Madone No 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 Raga Stavo finendo Ma vaffanculo No Madone Raga Stavo un attimo di silenzio per favore No 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 adesso vinco io te, te, te no, non mi fatti, non mi fatti lo sapevo io lo sapevo, io li so li so le cose a scuola io ci sono andato poca puttana e questo non mi sembra simpatice poca puttana infatti non mi sembrava un tipo da cui saltare sopra madonna forse la stella è una stella del ma altro che stavo dicendo del buongiorno della morte tipo che arriva addosso questo gioco fatto così bene te però non ti posso stare la morte no eh, io ci bevo dio mio ma com'è possibile ma che cazzo non è una stella del buongiorno raga, raga, 73 siamo che se ne frega io continuo e quindi devo già fuori siamo più forti adesso che siamo di antem party rock party rock party antem siamo più forti adesso che siamo di antem ma donnaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa no donna no non me va niente adesso che è no 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 lo sclero più scleroso del mondo ok è distratto oh raga la cosa più importante ora è vivere e non prendere eh sapevo raga io non mi fido molto di queste cose no 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 sei gay pedofilo qualcosa ma sessuale ci sei te te vaffanciuma te ecco no no qui non succede niente l'ultimo prendiamo l'ultimo ok te 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 no 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 ecco in questo chiudiamo il video ragazzi ci siamo riusciti abbiamo finito due livelli di cat mario benissimo ragazzi noi ci vediamo al prossimo video se vi è piaciuto il video io vi vi prego di lasciare un mi piace per lo sclero e per i minuti per le ore non so a quanto siamo per quello che ho fatto e ragazzi mi voglio impegnarmi anche se non ci riusciò a fare un bel montagione di tutti i miei video facendo un sacco di cose tipo come fa la fbj qualche momento epico però ragazzi non sono un esperto di questi montaggi per cui mi vedo vedete tipo michael ferron ha messo mi piace a più di 300 video tipo tutorial comunque se vi è piaciuto il video cliccate mi piace commentate e io vi invito a iscrivervi perchè questo sclero è per i 24 iscritti ragazzi se parlo male non me ne ha fatto un cazzo visto che me l'avevo detto praticamente in 5 e infatti siamo solo 24 eeeh possiamo finire qui perchè ho finito due livelli di cat mario in 70 minuti in quello che cazzo eh eeeh io posso dire che da marcon è tutto ci vediamo a un prossimo video con con una sorpresa bella ragazzi bella 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 ragazzi Grazie.